Presentata la lista, noi moderati in provincia di Pescara. Questa mattina in città è intervenuto anche il leader del partito Maurizio Lupi. Dalla sanità alle infrastrutture viare e digitali ai distretti industriali, il prossimo 10 marzo c'è in ballo il futuro della regione Abruzzo, dice Lupi. E quindi è la prima volta che ci può essere una continuità nel governo di questa regione. Dopo cinque anni di buon governo Marsiglio, altri cinque anni ci possono proiettare verso il futuro con le risorse che poi il governo ha messo a disposizione per questa regione. E il contributo di noi moderati è fondamentale perché bisogna tornare ad una politica fatta di competenza, responsabilità, concretezza, serietà e i nostri candidati che abbiamo riappassionato alla politica sono qui a testimoniare questo. La sfida vera in Abruzzo, secondo Lupi, è quella di creare una sanità uguale per tutti, riducendo le liste d'attesa e abbattendo la mobilità passiva. La sanità, Marsiglio ha già fatto tanto, ma dobbiamo vincere questa sfida. E poi per noi l'alleanza scuola-lavoro. Formazione, educazione sono fondamentali, la scuola, ma è in un'alleanza con il lavoro. La dignità è il lavoro in questa regione come in tutte le altre regioni e non l'elemosina di un'assistenza. Per Lupi il terzo mandato non è una priorità per il momento, con il dibattito che sarà demandato al Parlamento. Noi moderati punta ad essere riferimento per l'area centrista. Lupi interviene così sulla diatriba con Udc e Democrazia Cristiana. Noi vogliamo le tradizioni, sono le nostre tradizioni i nostri valori, ma non possiamo avere la testa rivolta verso il passato. Come eravamo grandi, dobbiamo costruire su questo presente il futuro anche di quelle tradizioni che appartengono alla democrazia cristiana, ai valori della famiglia, della libertà, della sussiderietà. Noi moderati è lo sguardo verso il futuro, ma le idee camminano solo sulle gambe degli uomini.